sindaco covid e scuola ieri c'è stata una riunione con le presidi la situazione sembra essere ancora sotto controllo però è normale che poi escano casi di studenti positivi di classi che devono essere messe in quarantena è una situazione che rischia siamo già a buon punto di sfuggire completamente di mano perché nonostante siano chiare le criticità rappresentate all'interno delle scuole dai sindaci e dalle dirigenti scolastiche dai genitori da tutti evidenti e rappresentate a tutte le autorità sanitarie regionali competenti non si è ancora fatto nulla rispetto a queste criticità questo punto è la priorità del momento è la priorità del momento la prossima ordinanza regionale deve essere dedicata alle scuole e affrontare questo tema una volta per tutte lo stiamo dicendo ormai da da settimane avevamo sempre ascoltarla al momento non abbiamo avuto ancora alcun alcun riscontro è un problema di tutti i sindaci che si stanno anche in alcune realtà più più piccole diciamo così assumendo delle delle responsabilità delle competenze che non spettano ai sindaci cioè l'interruzione dell'attività di singole classi e soprattutto in assenza di una valutazione da parte dei dipartimenti di prevenzione da parte delle asle il l'anello nevralgico il centro nevralgico quindi l'anello fondamentale del del sistema è rappresentato deve essere rappresentato dalla valutazione sanitaria da parte delle asle e dai centri di prevenzione del ripartimento di prevenzione e deve cambiare tutto il sistema e tutto il protocollo intanto lo ripetiamo i laboratori privati come dice l'istituto superiore di sanità devono essere inseriti obbligatoriamente dalla regione nel sistema di monitoraggio e tracciamento due lo stesso istituto superiore di sanità col ministero della salute dice chiaramente che i tamponi rapidi devono essere inseriti nei sistemi di comunità e soprattutto nel sistema scolastico perché costituiscono l'unico modo per tracciare diciamo così e monitorare tutte le situazioni di positività e quindi arginare la diffusione del virus in un ambiente appunto di comunità che inevitabilmente deve deve garantire la sua attività in presenza altrimenti altrimenti senza l'inserimento dei tamponi rapidi e questo monitoraggio si sta verificando una situazione di stallo che è abbinata all'altro aspetto di cui parlavamo prima perché oggi c'è il problema enorme che stiamo riscontrando in tutte le scuole degli esiti da tamponi privati esiti positivi che possono riguardare o i docenti oppure i ragazzi che non sono riconosciuti dal sistema pubblico e quindi non consentirebbero l'attivazione del protocollo del protocollo asle noi dobbiamo mettere le dirigenti scolastiche in condizioni di esercitare le loro competenze cioè anche di interrompere perché spetta loro interrompere l'attività in presenza delle scuole ed eventualmente passare la didattica a distanza o didattica integrata previa però valutazione da parte delle delle asle ecco perché abbiamo chiesto alla asle c'è un'interlocuzione attiva di emanare una circolare che autorizzi le presidi le dirigenti scolastiche nel momento in cui sorga una un caso positivo anche da tampone seguito dal laboratorio privato di attivare queste queste procedure dobbiamo farlo subito immediatamente non abbiamo tempo più tempo da da attendere perché una situazione che fino a qualche giorno fa come dicevamo era ancora una situazione gestita diciamo egregiamente all'interno delle scuole in questo momento sta determinando uno stato di disordine dove le dirigenti scolastiche che hanno queste competenze queste responsabilità non sono in condizioni di poterle esercitare e se si va avanti senza rimettere ordine a questa situazione beh la situazione credo che a questo punto potrà anche sfuggire di mano e portarci come come sindaci ad assumere anche determinazioni diverse grazie a tutti